Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video Bentornati sul canale o benvenuti in questo video make up Oggi si andremo a fare un video make up Devo dire che dopo forse gli oldie Shane Na na na, chi sapete sono i miei preferiti I video make up stanno rubando il mio cuore Oggi andremo a fare un video un po' diverso dal solito Di solito abbiamo sempre fatto trucchi pazzi Mai! Cioè mai se è qua dietro che cerca attenzione Dopo giochiamo, promesso, dopo giochiamo E non perdiamoci in chiacchiere Oggi sarà un video appunto come dicevo diverso dal solito Perché non andremo a fare trucchi particolari con ombretti e quant'altro Ma come avete già letto dal titolo Sarà un video make up no make up Questa tipologia di video andava un po' di tempo fa E devo dire che la me adolescente guardava un sacco questo tipo di video Perché ci sono quelle giornate in cui magari non abbiamo voglia di truccarci O magari anche proprio per le persone che non apprezzano più di tanto fare grandi make up Appunto questo tipo di trucco che sembra non esserci ma che in realtà c'è E secondo me è perfetto E sinceramente io tutti i video che ho visto in passato Non sono mai riuscita a fare un vero no make up make up Alla fine si vedeva sempre che ero truccata Non mi piaceva come veniva E negli ultimi tempi sono riuscita a sviluppare un no make up make up Che mi soddisfa tantissimo Super facile da fare Alla portata di tutti Anche per chi non si sa truccare insomma E quindi ho voluto diciamo condividerlo con voi Detto questo direi che più o meno mi sono spiegata su quello che andremo a fare oggi Prima di iniziare il tutorial Vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere Lasciatemi un like e un commento Come sempre fatemi sapere che tipologia di video vi piacerebbe vedere all'interno del canale E io sono qua per esaurire i vostri desideri ragazzi E niente detto questo partiamo e vediamo i procedimenti da fare per questo make up no make up Eccoci qua nella nostra solita postazione make up Direi che possiamo partire subito Come vi ho già detto questo sarà un make up molto molto facile Molto molto semplice Appunto il nocciolo di questo trucco è poco Poco di tutto e alla fine con poco di tutto verrà fuori un make up no make up Che sembrerà di non avere nulla sul viso ma comunque illuminerà un po' tutto Insomma andrà un po' a migliorare la faccia da sonno con cui ci svegliamo la mattina Direi che partiamo con un primer Ovviamente ognuno mette il primer che è più adatto alla sua pelle Io ho la pelle molto secca quindi vado con un primer idratante di Catrice E abbondo come sempre Ovviamente prima ho fatto già la mia skin care Solita Bisogna avere la pelle più diciamo sana possibile No non sana però più idratata pulita possibile Lo metto come vedete dappertutto per fare un po' una base Io uso un primer trasparente Magari se preferite potete usare un primer colorato Per migliorare le discromie Perché non andremo ad utilizzare un fondotinta Nemmeno una BB cream Perché appunto vogliamo l'effetto no make up E se iniziamo a stratificare fondotinta, correttore e quant'altro Non è più un no make up Dal momento che si è asciugato il nostro primer Possiamo partire con un bel correttore Il correttore è la cosa forse più importante e decisiva Nei no make up make up ho scoperto Serve un correttore non troppo chiaro Io in passato utilizzavo correttori troppo chiari per fare i no make up make up E alla fine risultavo troppo illuminata E quindi si vedeva palesemente che io avessi un correttore Bisogna utilizzare un correttore più o meno del nostro incarnato Chiaramente magari un tono più chiaro per dare quell'effetto luminoso Ma non troppo Cosa andiamo a fare con il correttore? Ne vado a prelevare un po' e lo vado a mettere sul dito semplicemente Lo vado a scaldare con l'altro dito e lo vado a mettere sull'occhiaia Tampono, tampono, tampono Lo metto proprio dove ho l'occhiaia scura E mi vado ad allungare alla fine dell'occhio Per dare un po' quella dimensione un po' più allungata Come ci piace E non vado troppo attaccata alle ciglia inferiori Questa è una cosa molto importante perché dà un effetto molto molto più naturale Vado anche leggermente all'interno Come vedete io di prodotto ne ho veramente prelevato pochissimo Voglio che sia davvero impercettibile Ma comunque come vedete l'occhiaia un po' è stata cancellata Poi ovviamente dipende da quanto è nera la nostra occhiaia Quanto la vogliamo coprire Io vado di solo uno strato perché appunto lo voglio davvero il più naturale possibile Ora sempre con il correttore lo vado a riprendere leggermente sul dito E vado a migliorare le imperfezioni Quindi qua vedete un brufolino sulla fronte Uno qui, uno qui, qua E vado appunto come prima a scaldarlo con le due dita E vado a fare tap 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 L'importante è dare un'illusione di pelle sana Che magari sana non è Andiamo ora con un po' di contouring Per il make up no make up io consiglio il contouring in crema Perché in crema dà un effetto di pelle più luminosa Più sana, più rimpolpata Quindi andiamo con un bronzer Io in questo caso utilizzo quello di elf Ne prendo poco E vado a dare un po' di dimensione al viso Ok il make up no make up Ma comunque un po' di dimensione dobbiamo darcela Non ne metto esageratamente Sapete che io adoro i contouring belli strong Ecco questo non è il caso Come vedete abbiamo dato dimensione Senza far vedere troppo che è stato usato del make up Vado a metterlo anche leggermente sul naso Ora vado a prendere un blush Sempre in crema Usiamo sempre quello di elf Ne vado anche di questo Indovinate a prelevare molto poco Giusto per dare un po' di colorito Questo è un trucco perfetto per Magari quando non abbiamo tempo la mattina Dobbiamo andare a lavorare presto Ma comunque non vogliamo risultare Troppo stanchi o poco curati Con questi semplici accorgimenti Comunque vedete già il viso ha un'altra luce Ora prendo un illuminante L'illuminante che io consiglio per questo tipo di make up È un illuminante non estremamente potente Io in questo caso vado ad usare questo qua di Kiko Che all'apparenza sembra molto scrivente Ma fidatevi di me Non scrive praticamente niente E lo vado a stendere davvero una punta Solo per dare la solita dimensione Voi cosa ne pensate? Siete più team trucco leggero Trucco pesante Cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti Io ovviamente sono team trucco pesante Però apprezzo anche questa tipologia di trucco Un po' più soft Naturale Molto naturale Ne vado a mettere anche un pelo sul naso Adesso finiamo il contouring Con un po' di polvere Vado a usare questa di Shane E vado a fare un po' di contouring al collo E altra cosa Vado a prendere un po' di prodotti in polvere Pochissimo E lo vado a mettere qua Così diamo un po' di dimensione all'occhio Pochissimo veramente Pochissimo Una punta Vedete come già tutta la pelle Con questa base iper naturale È più sana Più luminosa Io adoro Adesso che abbiamo fatto la base La vado a fissare Vado a mettere un po' di fixing spray Adesso vado con le sopracciglia Vado a prendere una matita per sopracciglia Non esageratamente scura E vado a riempire leggermente i buchi Soltanto al finale Non dobbiamo dare l'effetto di sopracciglio perfetto ovviamente Io che ho pochi peli Magari ci vado un po' più pesante Ma perché ha già una sopracciglia folta E comunque più scura della mia Perché io ho la ciglia bionda E poco folta Che fortuna Potrà anche evitare questo passaggio in realtà Io lo faccio perché se non lo facessi sembrerei senza sopracciglia praticamente Fatte le sopracciglia Andiamo a fissarle con un gel Io uso questo qua di Elf Che abbiamo provato insieme Che sinceramente mi sta piacendo tantissimo Perché tiene le sopracciglia in posa Dove le abbiamo messe E stan lì Tutto il giorno Davvero Vado ad alzarle anche leggermente Per dare sempre un effetto Un po' più spettinato Un po' più naturale Fatte le sopracciglia Andiamo a fare le ciglia Che le vado sempre a fare con questo prodotto qua Che ha sia gel per le sopracciglia Sia gel per le ciglia Quindi me le va a Soltanto incurvare leggermente E rendermele un po' più folte Senza però andarle a colorare Le incurvo sempre mi raccomando con un piegaciglia E vado a passarci il gel per le ciglia Sto mascara trasparente E faccio due tre passate Insomma come preferite Benissimo Ora che il mascara si è asciugato Vado a prendere un eyeliner Eyeliner per sopracciglia Quello che preferite Un mascara per sopracciglia colorato Vado a colorare le puntine Solo le punte Per dare un po' di dimensione Un po' di lunghezza Ma senza infoltirle troppo Con appunto un mascara Che andrebbe a renderle Molto più innaturali Tra virgolette Questo è il lift and snatch Che è un eyeliner per sopracciglia Che io adoro personalmente Bene Mancano gli ultimi due passaggi Uno Con una matita marrone Vado a disegnare La waterline superiore Leggermente Non tantissimo E mi spingo Un filino Fuori Verso il centro Appunto per dare Questo effetto Di occhio un po' più allungato Ultimo passaggio Io vado con Un lip balm In questo caso È un lip balm Bellissimo Di essence Se non sbaglio Sì È veramente Favoloso Sia il packaging Che il lip balm In sé per sé Pieno di brillantini Che però Non vanno tanto A depositarsi sulle labbra Dal momento che viene steso Ed è uno di quei Lip balm Che cambiano in base Al pH delle labbra Questo rispetto Ad altri che ho provato È molto leggero Non cambia più di tanto Il colore Quindi non fa proprio L'effetto labbra fucsia E si assorbe Molto velocemente Io come sempre Abbondo Come vedete Un paio di brillantini Li ha rilasciati Il colore delle labbra Come vedete Rimane molto naturale E ragazzi Abbiamo terminato Il nostro Make up No make up Look Cosa ne pensate? A me piace tantissimo È super naturale Rende lo sguardo Proprio Sveglio Riposato Non lo so Mi piace davvero Un sacco Sembra che io Di trucco addosso Non ne abbia Praticamente Ed è veramente Fantastico Sono super contenta Di aver trovato Questo Escamotage Diciamo E sono molto contenta Anche di averlo Condiviso con voi Fatemi sapere Cosa ne pensate Del make up Se può esservi utile Se vi è stato utile Se l'avete provato Fatemi sapere Insomma Noi ci vediamo Al prossimo video Prestissimo Vi mando Un bacione E ciao 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 Ciao